e saluto iscriviti e benvenuti in un nuovo video sono dailycraft32 e saltando tutte queste cose perché già l'avevo fatto nella precedente clip che è andata a quel paese possiamo iniziare allora prendiamo un attimo un pochino tutte queste cose qua distruggiamo la cesta no però giocare all'incontrario è bello cioè chissà se giocare all'incontrario può portare alla vittoria chi lo sa ragazzi può essere pure che giocare una partita all'incontrario può far vincere facciamo così ragazzi questo video sarà il video dell'incontrario quindi se volete non lasciate like non iscrivetevi ovviamente ragazzi sto parlando dell'incontrario ragazzi sto parlando dell'incontrario ve lo ricordo questo qua video dell'incontrario vi parlo dell'incontrario quindi ragazzi se non volete se volete non iscrivetevi non lasciate like e non lasciate un commento e se in caso non ci sta un sondaggio non fatelo comunque a parte tutte ste cavolate qua che cavolate a parte queste piccole cose sto dicendo sono scemo sono scemo sono scemo sono scemo sono scemo non posso farti vincere non posso farti vincere non posso farti vincere non posso farti vincere l'ho colpito mi sono autocolpito che bello dai dai persona raga non possiamo continuare il video così all'infinito dobbiamo smascherarlo quindi facciamo un attimo così no 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 facciamo un attimo togliere dal suo nascondiglio segreto almeno si ha capito che si deve muovere perfetto allora vediamo un pochino il nome lo vedo anch'io quindi esatto l'ha visto anche lui l'ha visto anche lui perfetto it was at this moment he knew he fucked up ragazzi ragazzi rido ma veramente non è cosa da molti cioè stare parlando con uno che ride per le battute di Joker quindi vorrei farvi capire però vabbè dettagli comunque poteva pure mettere un blocco e toglierla e Peppe si è praticamente suicidato va bene ora facciamo questa mappa qui sempre al contrario sperando che ci porterà almeno un pochino di fortuna e possiamo iniziare togliamo anche questo ma via raga oggi c'è stato anche l'evento del server alpha molti di voi penso proprio che non lo conoscano però in poche parole è il mio server su playstation e in poche parole tra poco in teoria dato che è passato ufficialmente nella versione nella sua versione beta cioè l'ho fatto passare nella versione beta vorrei farci un video di rappresentazione e quindi niente ditemi ditemi la vostra se sarebbe una buona idea su come farlo consigliatemi come fare oppure oppure consigliatemi c'è dato che io sono un pochino inesperto con queste cose potete pure dirmi un bel programma su come farlo su come fare tutto questo su come fare tutto questo qui e almeno da avere una chance in più no no mamma mia chi sono altro che David il grande 375 ragazzi mamma mia e chi è lui si però tutta questa roba qua me la devo prendere altrimenti da dietro no raga c'è l'inventario tutto sfambolato e si OP però con l'arco mamma mia si OP col sacro santo arco e però ah l'esplosione di tentino l'avevo attivata l'avevo attivata allora faccio così ho griffato la mappa dolore il dolore e t'ho preso e n'altro e non t'ho preso e t'ho preso t'ho preso? t'ho preso? no non t'ho preso allora no e tanto che fai non puoi raga raga stavo no non ci credo credevo che era l'ultimo raga 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 sto per piangere raga sto per piangere raga sto assolutamente per piangere raga mi sta partendo la lacrima la famosissima lacrima raga mi sta partendo la lacrima raga mi sta partendo la famosa lacrima raga raga allora noi possiamo vederci in un altro video ragazzi io adesso mi vado a ritirare non ce la faccio più per questa cosa probabilmente sarà un colpo al cuore vabbè ragazzi ci vediamo in un prossimo video da me e il canale è tutto e forse nel prossimo video sarà molto probabilmente di God of War perché ancora quel gioco lo devo finire e lo voglio finire vi sveglia un attimo anche un segreto di questa skin anche l'armatura è all'incontrario cioè comunque se il video vi è piaciuto lasciate like iscrivetevi mi raccomando di sponsorizzare il mio canale così almeno da raggiungere molti più iscritti condividete anche i video e mi raccomando ragazzi molti speciali gli speciali che dovranno arrivare ragazzi non avete nemmeno idea di cosa potrà pubblicarvi beh non ho neanche nemmeno io idea però sponsorizzate il mio canale così almeno da scoprirlo quindi ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao